Buongiorno, buonasera a tutti quanti, a seconda dell'ora qui ci ascoltate. Ciao Andrea. Ciao, ciao Ludovico. Benvenuti tutti quanti. Siamo qui, Andrea, per parlare di due articoli che sono stati pubblicati dall'Organized Crime and Corruption Reporting Project, quindi il progetto per l'indagine sull'organizzazione per il reportage sul crimine e la corruzione. Questi due articoli riguardano l'infiltrazione russa e del cremelino all'interno degli apparati politici europei e in particolar modo di quello italiano, in cui come vedremo figura una regione in particolare particolarmente interessata, una regione italiana, che è il Veneto. I due articoli in questione li potete trovare nella descrizione del video. Ce n'è uno di carattere generale che si chiama Kremlin-linked group arranged payments to European politicians to support Russia's annexation of Crimea e ne trovate poi uno più specifico sull'Italia che si chiama Italian politicians and big business bolting to the Russian occupation of Crimea. Gli autori sono Martin Lane del ST Express, Tatiana Takchenko e poi Cecilia Nesi e Lorenzo Bagnoli di Irpi Media. Infatti in descrizione potete trovare anche la versione in italiano dell'articolo sull'Italia dal titolo gli agenti della propaganda russa. Anche nella nostra conversazione di oggi partiremo dal generale, cioè partiamo spiegando un po' come questa rete di operazione di influenza fosse strutturata in Russia e poi nel resto dell'Europa e poi andremo nello specifico del caso italiano e in realtà soprattutto del caso Veneto. Prima di dare la parola ad Andrea ci tenevo a precisare che ovviamente tutto quello che diciamo sono le informazioni contenute nell'articolo, negli articoli, quindi potete facilmente controllarle, verificarle, non sono speculazioni nostre personali, ovviamente è un lavoro eccezionale che è stato fatto dai giornalisti che abbiamo nominato e riteniamo che sia particolarmente importante parlarne perché non ha avuto l'eco che ci sarebbe aspettati in Italia, nel senso che coinvolge direttamente molti esponenti politici italiani, mostra la loro connessione diretta con agenti di influenza del Cremlino e ci siamo rimasti stupiti che appunto non abbia avuto il risalto che altre indagini giornalistiche su temi a volte molto meno rilevati hanno in Italia. L'altra cosa importante da dire ovviamente è che questa indagine non è esaustiva, nel senso che si tratta di un caso ben preciso, ce ne potrebbero essere altri dieci, altri cento, altri mille di cui ovviamente non possiamo parlare, parliamo solo di questo fatto qui. Ovviamente nella descrizione troverete degli approfondimenti, vi rimando anche alla conversazione che abbiamo avuto con Anton Shekhovstov in cui parlava appunto dell'influenza russa all'interno dell'estrema destra europea e niente, su questo darei la parola ad Andrea che ci fa un po' un riassunto di quelli che sono i punti principali esposti da questi articoli. Sì perché questi articoli partono da un presupposto che i giornalisti in questione sono riusciti a entrare in possesso di migliaia e migliaia di mail e scambi di messaggi liccati che vanno dal periodo del 2007 al 2017 che in questi messaggi appunto si rivela l'esistenza di una rete di analisti, giornalisti, politici che si coordinano con membri della Duma o comunque vicini all'amministrazione russa per promuovere in un certo senso narrazioni in sostegno della nessione della Crimea o in generale visioni della politica vicine al cremino. Cos'altro c'è in queste mail che comunque sono davvero numero spropositato, si parla direttamente di una rete che si occupava di contattare politici europei e che cercava di convincere alcuni politici europei, particolarmente dell'estrema destra, per promuovere una legislazione pro occupazione della Crimea in cambio di somme di denaro o comunque favori di vario genere. Per esempio si parla di stesure di risoluzioni scritte direttamente in cooperazione con persone vicine all'amministrazione russa, quindi parliamo proprio non solo di convincere politici europei a sostenere posizioni filo cremlino, ma anche di attivarsi concretamente per promuovere a livello legislativo, a livello di discussione politica dentro le sedi istituzionali delle visioni che avevano molto a che fare con il cremino. Poi si parla di contattare giornalisti o comunque attivisti per pubblicare pezzi di opinione editoriali che promuovessero delle narrazioni pro cremino. Si parla di una rete che organizzava viaggi in Crimea per i suddetti politici e comunque fare in modo che si normalizzassero le visite nella Crimea occupata, che ricordiamo dal 2014 è occupata dalla Russia e non è riconosciuta dalla comunità internazionale come parte della Russia, quindi il fatto stesso che ci fossero politici, giornalisti, uomini d'affari visitare la Crimea era in un certo modo una modalità di riconoscimento anche se non ufficiale, in modo che appunto queste visite potessero anche venire presentate all'opinione pubblica come un modo per normalizzare la situazione in Crimea. E poi c'è un altro argomento che viene toccato nelle mail, ossia dell'organizzazione di una rete di osservatori internazionali europei che potessero venire usati dalla Federazione Russa e da altri paesi per legittimare alcune consultazioni elettorali e referendum che avvenivano all'interno della Federazione Russa o di altri paesi vicini alla Federazione Russa. In sostanza questa rete di osservatori dava un certo grado di legittimità alle consultazioni elettorali che invece non venivano riconosciute dalla comunità internazionale o da organi terzi come l'OSCE, l'ONU eccetera. Quindi diciamo che in questi leak, in queste mail c'è un'enormità di argomenti che l'articolo poi tratta in successione. Per esempio, e qui ripasso la parola a Ludovico, l'organizzazione a livello europeo di questa rete pro-Russia. Grazie Andrea. Come spiegava Andrea, tutto questo è stato scoperto grazie a tutta una serie di mail, pare circa 20.000, di cui i vari giornalisti sono riusciti a andare in possesso. Ed è tutto legato, molto ruoto attorno alla figura di Sargis Mirzakanian. Sargis Mirzakanian è un membro dello staff della Duma, quindi non un parlamentare ma un membro dello staff, responsabile di un'organizzazione che si chiama International Agency for Current Policy, quindi l'organizzazione internazionale, agenzia internazionale per la politica attuale, insomma una cosa del genere, Current Policy per l'attualità, insomma ecco, politica di attualità, che lui stesso descrive in una delle sue mail come una ristretta associazione di professionisti orientata a collaborare con esponenti politici europei di rilievo. Attraverso queste mail è stato possibile ricoprire, diciamo, la rete delle loro attività. L'organizzazione era strutturata più o meno in questo modo, cioè questo Mirzakanian era il suo coordinatore, poi il suo, diciamo, principale contatto all'interno della Duma era, o è, Leonid Slutsky. Leonid Slutsky è un parlamentare della Duma ed è il vice segretario, era il vice segretario del Partito Liberal Democratico Russo, che ovviamente potrebbe trarre molti in inganno, nel senso che il Partito Liberal Democratico Russo non ha niente di liberale, non ha niente di democratico e neanche meno di liberal democratico. È il partito di estrema destra di Vladivir Slutsky, che è quasi morto, mi pare, l'anno scorso, nel 2022, e che è noto, diciamo, per le sue posizioni ultranazionaliste, razziste, omofobe, misogine, insomma, potete fare una breve ricerca e troverete il tipo di soggetto abbastanza indicativo. Però il ruolo di questo Slutsky era quello di trovare i, era quello di trovare, diciamo, gli interlocutori politici negli altri paesi europei e coordinare, organizzare il network di osservatori internazionali, quello degli osservatori internazionali per le elezioni sia in territori occupati, sia all'interno della Russia, qualcosa che Andrea poi spiegherà meglio. Poi c'era un contatto all'interno dell'amministrazione russa, che era Inak Arzimba. Inak Arzimba era membro dello staff di Vladislav Surkov, che forse è più noto a chi ci ascolta. Surkov è stato tra il 2013 e il 2020 consigliere e aperti, chiuse virgolette, ideologo di Putin, è una delle persone che pare abbia avuto più influenza dal punto di vista ideologico su Putin in quegli anni. E poi vi erano due contatti all'interno di quello che viene chiamato il Yalta International Economic Forum, che era un'organizzazione per promuovere appunto le relazioni tra Crimea occupata e altri paesi europei, che sono Andrei Nazarov e Rustam Muratov. Andrei Nazarov era il presidente dell'Yalta International Economic Forum e Rustam Muratov era un membro dell'esecutivo di questo forum, che era responsabile di organizzare questi viaggi in Crimea da parte di politici, giornalisti, attivisti europei legati in qualche modo alla Russia. Poi l'altra figura importante in tutto questo è quella di Sergei Axionov, noto in Crimea come il Goblin. Farà ridere, ma la verità è che Sergei Axionov è il governatore della Crimea che è stato instaurato a seguito dell'occupazione illegale della Crimea da parte della Federazione Russa. Axionov era noto per essere, avere un passato, un presente probabilmente nella criminalità organizzata. Era un boss mafioso noto con il nome, con il nickname del Goblin, di Goblin appunto. Ed è la persona che è stata messa a governare la Crimea dopo la sua occupazione da parte della Russia. E come vedremo anche lui era determinante in tutto questo. Ci sono, potete vedere nell'articolo diverse foto di esponenti politici italiani che incontrano questo simpatico personaggio, si stringono la mano, si fanno foto insieme, eccetera. E poi ovviamente come sempre in questi casi c'erano degli esperti di media e come Stepan Manzurov della Russian Economic University e soggetti simili che ovviamente si occupavano anche di organizzare l'apparato mediatico e anche proprio aiutare a diffondere questo tipo di iniziative. Stando a questi documenti i principali obiettivi in termini di paesi di questa organizzazione erano in ordine alfabetico Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Romania e Turchia. E su questo ritorno la parola ad Andrea che ci parlerà adesso un po' di quelli che era una delle prime iniziative, cioè quella di introdurre pezzi di legislazione, mozioni, iniziative legislative spesso a livello regionale. Sì, esatto, perché al di là dell'esistenza di questa rete che può sembrare quasi un po' folcloristica con personaggi strani e improbabili, però il fatto vero, il fatto che viene provato da uno scambio di oltre mille mail è che Mirza Kanyan parlava espressamente di prezzo del voto, quindi di influenzare tramite scambi di denaro delle votazioni e addirittura che ci fossero l'approvazione, la creazione di emendamenti legislativi fosse un processo quasi di scambio che dipendesse da uno scambio di denaro. Per esempio, un esempio che viene fatto nell'articolo coinvolge il senatore italiano Paolo Tosato della Lega Nord e il parlamentare austriaco Johannes Hubner del FPO che entrambi avevano, secondo lo scambio di mail, avrebbero dovuto presentare delle emozioni orientate a sospendere le sanzioni imposte contro la Russia dopo l'occupazione della Crimea nel 2014 e il progetto di questo scambio di favori o di influenza prevedeva che ci fosse un budget di 20 mila euro a testa per Tosato e Hubner con un premio di 15 mila euro in caso le risoluzioni che questi due politici avrebbero dovuto presentare fossero state approvate. Per la verità l'articolo non afferma che questi pagamenti siano avvenuti o meno, quel che è certo che entrambi sia Hubner che Tosato hanno poi presentato un disegno di legge per ridurre le sanzioni imposte contro la Russia. Contattati poi dai giornalisti di questo articolo hanno negato di aver ricevuto dei pagamenti. Quel che resta però è che Mirza Kanyan parlava espressamente di favorire o di dare dei soldi a questi due politici per far approvare questi due procedimenti legislativi. Un altro caso di cui si parla nell'articolo riguarda Cipro, nella persona di Andros Kipriano che era il segretario del partito progressista dei lavoratori, che è un partito di ispirazione marxista ma è storicamente il secondo partito più importante della politica cipriota e Kipriano avrebbe dovuto presentare un disegno di legge che prevedeva il riconoscimento della nessione illegale da Crimea, la fine delle sanzioni nei confronti di alcuni uomini molto influenti e vicini allo stesso Mirza Kanyan e infine l'implementazione degli accordi di Minsk. La mozione in realtà presentata appunto dal partito dei progressista dei lavoratori fu approvata dal Parlamento cipriota nel luglio creando poi una forte tensione con la Commissione europea e si fa notare che in contemporanea con l'approvazione poi Kipriano fu invitato a Mosca per incontrare Muratov e Nazarov di cui Ludovico mi parlava prima. Un terzo caso riguarda invece la Germania, un parlamentare di Alternativa for Deutschland, Marcus Frommeyer, all'epoca parlamentare regionale della regione di Baden-Württemberg in coordinazione con Mirza Kanyan tentò anche lui di introdurre senza successo una legislazione a livello locale per rimuovere le sanzioni alla Russia. Quindi diciamo che in questo scambio di mail si parla di soldi in cambio di procedimenti legislativi in almeno quattro nazioni, Italia, Austria, Cipro e Germania. Il tutto mentre in altre mail si parla di viaggi di lusso spesati in Crimea appunto per le persone che si spendevano a livello politico per l'approvazione di questi procedimenti. E qui ripasso la palla a Ludovico per la parte su appunto questi viaggi di lusso della Crimea occupata. Grazie Andrea. Sì, infatti, come spiegava Andrea, quindi il primo passaggio era quello di individuare i contatti all'interno della scena politica europea, quindi politici di orientamenti a volte diversi, quasi sempre legati o all'estrema destra o all'estrema sinistra, che avevano simpatie per il regime puttiniano e per il cremlino e per farli introdurre appunto questi pezzi di legislazione o tentare. E poi c'è ovviamente l'altro elemento fondamentale è i viaggi in Crimea. Perché i viaggi in Crimea? Perché la Crimea ovviamente è stata occupata e annessa dalla Federazione Russa, a differenza dei pezzi di Donetsk e Luhansk che sono stati invasi e occupati nel 2014 a loro volta, ma non sono mai stati annessi ufficialmente dalla Federazione Russa, la Crimea dal punto di vista russo è stata annessa. Quindi la Federazione Russa, nonostante questo non sia mai stato riconosciuto da nessuno praticamente a livello internazionale, però la Federazione Russa ha sempre avuto una necessità di cercare di ottenere una qualche forma di riconoscimento. Il suo modo di farlo era quello di cercare di invitare esponenti politici europei in Crimea, in viaggi di lusso interamente spesati, a parlare a iniziative come lo Yalta International Economic Forum. Quella era l'occasione a Yalta in cui avvenivano questi viaggi. Attraverso queste mail siamo riusciti, gli articoli ci mostrano come queste operazioni di PR erano finanziate da una società che si chiama Hemingway Partners, che è stata fondata dallo stesso Mirzakhanian a nome della madre. Quindi stiamo parlando a volte di sistemi davvero abbastanza, lo dico quasi da principianti, ma davvero abbastanza palesi nella loro illegalità, nella loro, diciamo, non dico illegalità, ma scarsa trasparenza. E nell'aprile del 2016 Mirzakhanian condivide con Muratov, che è il presidente del Yalta Economic Forum, una lista di alcuni politici europei interessati a partecipare al Yalta Economic Forum. Questi membri in questa lista sono inclusi, ad esempio, due parlamentari europei, uno è Marcus Pretzel, che è un parlamentare europeo tedesco del gruppo Alternative for Deutschland, alternativa per la Germania, che è il partito di estrema destra. Un altro, ad esempio, è un parlamentare europeo cieco, Jaro Mirkolycek, del partito comunista cieco. Un altro è un parlamentare... poi c'erano due parlamentari tedeschi... austriaci, scusate, Axel Kassinger e Barbara Rosencrantz, entrambi del Freedom of the High Party, che è il partito della libertà, anche questo partito di estrema destra, di Heider. E poi c'era il famoso... ormai, che diventerà famoso nel corso di questa conversazione, Stefano Valdegamberi, italiano, consigliere della Regione Veneto, in quota Lega, anche se non credo iscritto alla Lega, era stato eletto nella lista di Zaya, ma non effettivamente un membro della Lega Nord, da quanto mi risulta. E questa serie di mail mostrano... menzionano senz'altro l'acquisto di biglietti aerei per circa 7600 euro, alloggi in un resort di lusso che si chiama Maria Spa, che è un resort di lusso a Yalta, che ha costato circa 300 milioni di euro. E poi onorari, anche qui non chiaro in che modo sarebbero stati corrisposti, per 21.500 euro in totale, quindi da dividersi tra questi vari esponenti. Ovviamente tutti questi politici negano di aver mai ricevuto pagamenti e l'articolo non afferma che di aver trovato prova di questi pagamenti, ma semplicemente che nelle comunicazioni sicuramente se ne è parlato. Poi, se siano venuti o meno, non viene detto. La lista poi di persone che sono andate allo Yalta Economic Forum, di politici o esponenti politici o giornalisti o del mondo imprenditoriale, è molto più lunga e nel corso della conversazione ne menzioneremo altri. Ma il nome che occorre ricordare per chi ci ascolta è quello di, specialmente per la situazione italiana, è quello di Stefano Valdegalberi, consigliere della Regione Veneto. E su questo lascio continuare Andrea sul tema dei famosi osservatori internazionali, che è estremamente interessante. Sì, perché mentre è più facile magari negare di aver preso dei soldi per quanto riguarda i viaggi in Crimea, gli osservatori internazionali è qualcosa invece su cui abbiamo evidenze anche da parte degli stessi partecipanti a queste varie osservazioni internazionali che si sono seguite nel corso degli anni. Nell'email di Mirza Kanyan si rivela per esempio il progetto da fare in cooperazione col parlamentare russo Leonid Sutsky, di creare una finta NGO, dal nome abbastanza altisonante, Russian Peace Foundation, appunto per organizzare questa rete di osservatori internazionali per le elezioni presidenziali e regionali russe del 2017. Nell'email vengono identificate almeno 24 persone, è una lista molto lunga, negli articoli si fa riferimento a tutti loro, diciamo che i nuovi più importanti sono per esempio quello di Thierry Mariani, che è membro del Parlamento europeo ed ex ministro di trasporti francese, poi c'è un altro francese Dominic Bilde, sempre membro del Parlamento europeo, un altro nome che ricorre è quello che citava prima Jaromir Klitschek, che è un membro del Parlamento europeo del Partito Comunista della Repubblica Ceca e poi ci sono anche due nomi italiani, uno è quello di Val de Gamberi, di cui Ludovico parlava prima, e l'altro è quello ormai magari più famoso di Gianluca Savoini, consigliere di possi Maroni Salvini in quota Lega. Perché si parla appunto di questi osservatori internazionali? Perché una nota margine che magari non è chiara a tutti, ma ci tengo a precisare, è che il problema dei finti osservatori internazionali è un problema molto serio, che coinvolge non solo politici europei, ma anche politici di altre regioni, dall'Armenia alla Russia, alcune zone occupate dell'Ucraina, ed è un problema che si è intensificato negli ultimi anni. Ora, non voglio citare cose che non ci sono nell'articolo, però va da sé che fare l'osservatore non è semplice, e per esempio in sede ONU, sede OSCE, ci sono degli standard qualitativi molto rigorosi da rispettare, non solo per l'osservazione in quanto tale, cioè quello che avviene al seggio, ma anche tutte le attività che vanno dal viaggio verso il seggio che devi osservare, alle attività di report, a cosa si può o non si può dichiarare, a livello di comunicazione. Quindi la presenza di questi finti osservatori non è solo un modo per dare legittimità a delle votazioni in un regime autoritario, ma serve anche e soprattutto a coprire eventuali brogli, che ovviamente non vengono rivelati perché quegli osservatori non sono lì realmente ad osservare cosa sta avvenendo, ma a dare legittimità alla lezione, e serve anche a spartire favore e influenze, perché ovviamente questi tipi di viaggi verso i seggi non vengono reportati in maniera chiara e trasparente, come invece vorrebbero gli standard internazionali. La cosa un po' paradossale è che questa rete di osservatori fa notare, qui ritorno all'articolo, l'articolo fa notare che questa rete di osservatori internazionali era attiva addirittura ben prima dello scambio di mail, perché Valdegamberi era già stato osservatore nel referendum illegale della Crimea, quindi parliamo del 2014, ed è stato poi osservatore durante le elezioni presidenziali della Russia nel 2021. E la cosa che lascia un po' sgomenti è il fatto che Valdegamberi stesso abbia dichiarato di essere rimasto impressionato dalla trasparenza del processo elettorale. Oggi che sappiamo quello che c'è dietro, queste dichiarazioni sono un pugno nell'occhio. Tra l'altro per chi è interessato al tema delle, queste chiamano biased observation, c'è un progetto molto dettagliato che si chiama Fake Observers, a cui ha collaborato anche Shekostov, di cui parlava Ludovico prima, che mappa questo tipo di attività e coloro che si prestano alla cosa. Ed è una lista infinita in cui sfortunatamente compaiono anche molti politici italiani o comunque personalità pubbliche italiane. In questo modo è importante ricordare che comunque tutte queste azioni hanno fornito una certa legittimità al regime putiniano e non solo, anche a molti suoi alleati. E c'è un filo rosso, un filo rouge che collega appunto queste azioni con quello che poi è accaduto dopo il 24 febbraio 2022. Per esempio ci sono varie persone che si sono prestate a questa cosa, per esempio come dicevo prima ci sono vari politici italiani e non, ma la cosa più impressionante è che non finiva lì non finiva solo l'osservazione e poi c'era anche la partecipazione in eventi pubblici di altissimo livello. E qui ripasso la parola a Ludovico che ci parla poi di addirittura viaggi di una delegazione italiana in Crimea. Esattamente. Sì, quello degli osservatori internazionali è un punto che aveva fatto, come ha detto Andrea, anche Anton Shekostov quando era stato ospite e appunto sono stati utilizzati nel corso degli anni come una forma alternativa di osservatori in tutti quei contesti o di territori legalmente occupati in cui si fanno referendum falsi, plebisciti diciamo e negli organi di propaganda specialmente in occidente, quindi Russia Today, Sputnik eccetera, non è possibile dire che i referendum sono stati sotto l'osservazione OSCE o ONU o quello che vuoi e quindi si diceva però c'era come osservatore, e lì c'era quasi sempre il nome di un altissonante finta NGO, di cui fanno parte alcuni parlamentari europei. Quindi c'era comunque un'osservazione, no? Questa è l'idea di fondo, ma ovviamente poi se uno va a vedere chi erano queste persone, erano persone che erano pagate per essere lì in maniera spesso non esattamente trasparente che dicevano delle elezioni ad esempio russe del 2021, che sappiamo tutti, chiunque abbia avuto modo di seguire all'epoca sa, nello stato di totale assenza di libertà in cui si sono svolte, non erano certe elezioni libere, ovviamente. Sì, allora arriviamo alla questione del viaggio della delegazione italiana in Crimea occupata nell'ottobre del 2016. Questo viaggio fu organizzato da due soggetti in particolare. Allora, una è Marina Klebanovic, Marina Klebanovic che è a sua volta moglie di Matteo Piskorski, scusate la mia pronuncia polacca è sempre tremenda, Piskorski era un parlamentare attivista di estrema destra polacco, con posizioni particolarmente filorusse, poi arrestato nel 2016 per spionaggio, il suo arresto poi porterà all'arresto di altri due politici, uno lituano, Alder Gass Paletskis e un membro del Parlamento europeo ungherese, Bella Kovac, entrambi per spionaggio. Però la moglie di questo attivista di estrema destra polacco, Marina Klebanovic, insieme ad un attivista di estrema destra austriaco, Robert Stelzel, legato al Partito della Libertà e che era stato a sua volta osservatore sia in Crimea che in Nagorno-Karabakh, erano i due responsabili di organizzare il viaggio italiano in Crimea. Il loro contatto era Stefano Val de Gamberi, soprannominato Vlad de Gamberi all'interno di questo gruppo proprio per la sua vicinanza al regime putiniano. Questo viaggio che avvenne nell'ottobre del 2016 fu finanziato dalla ditta di costruzioni russa Granel, fondata da Andrei Nazarov, che era un uomo d'affari vicino al regime Putin, e il viaggio fu coordinato da Mirza Kanyan, già citato prima. Mentre Klebanovic e Stelzel si occuparono di selezionare i membri della delegazione, decidere chi fargli incontrare in Crimea e organizzare anche la promozione mediatica dell'evento. Importante citare ad esempio che nell'aspetto di promozione mediatica di questo viaggio scelsero di includere in questo viaggio non solo esponenti politici, ma anche del giornalismo. In particolare si parla di un giornalista di Libero che partecipò a questo viaggio. L'articolo non cita il nome, ma è possibile trovare l'articolo di Libero in cui viene intervistato il governatore della Crimea occupata, il già nominato Axionov, il Goblin, come ricorderete, e in cui nell'articolo di Libero si dice Sebastopoli, tra parentesi Russia. Quindi l'articolo di Libero implicitamente riconosce l'annessione. Per capire però questo viaggio nell'ottobre 2016 bisogna tornare indietro nel tempo di alcuni mesi al maggio dello stesso anno. Il 18 maggio 2016 Stefano Valdegamberi, consigliere della Regione Veneto, invita diversi giornalisti e propagandisti russi ad assistere a una seduta del Consiglio della Regione Veneto. Perché? Perché in questa seduta Valdegamberi presenta una mozione in cui condanna le sanzioni alla Russia e sostiene il riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea. La mozione sul riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea viene approvata a maggioranza dal Consiglio regionale del Veneto. Questa mozione era stata scritta in collaborazione con Mirza Kani, quindi era una mozione che era stata redatta in Russia e poi data a Valdegamberi da presentare al Consiglio regionale del Veneto. E successivamente i consigli regionali di Liguria e Lombardia, entrambi dominati dalla Lega Nord, seguirono con mozioni simili sul riconoscimento della Crimea. Apro chiudo parentesi, ovviamente una regione italiana non ha alcuna autorità per riconoscere una cosa di questo tipo. Chiaramente non ha nessun effetto nella realtà del diritto internazionale, ma è un fatto abbastanza saliente che questo sia avvenuto. Non solo, nell'ottobre del 2016, quindi a ridosso di questo viaggio, quindi questo evento del riconoscimento spiega l'interesse da parte russa di avere una delegazione italiana, il riconoscimento da parte della Crimea e da parte del Veneto fu rilanciato in maniera notevole sui media di propaganda russi. Nell'ottobre 2016 il presidente di Union Camera Veneto, Giuseppe Fedalto, scrive al presidente della Camera di Commercio russo, Sergei Katirin, proponendo di firmare un accordo di mutua collaborazione tra imprese russe e venete. E in questa lettera sostiene anche di star lavorando per cercare di far rimuovere le sanzioni, ovviamente che avesse questo potere il presidente di Union Camera non è chiaro, però dice di star lavorando per questo fine. E una simile lettera viene inviata anche da Gianangelo Bellati, segretario di Union Camera, in cui lui sostiene che almeno 800 aziende venete siano interessate a collaborare con l'imprenditoria russa. E appunto i già citati Stelzel e Klebanovic si pongono come potenziali intermediari per questo contatto. L'altro fatto che vale la pena citare è che anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che era anche un assessore della Giunta Zaia, quindi anche lui legato alla Lega, era uno dei cosignatari della mozione per il riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea. Ed è anche promotore di una dichiarazione, scritta anche questa da Mirza Kanyan, per la cooperazione economica tra Veneto e Crimea. Ciambetti poi verrà anche invitato come osservatore nelle elezioni russe in Crimea nel 2018. Quindi c'è proprio un livello di collaborazione molto molto profondo. Quindi abbiamo il riconoscimento da parte del Veneto e della Crimea a livello politico, ma anche la nascita diciamo di progetti di cooperazione economica tra aziende venete e aziende russe in Crimea. Ad esempio il consigliere regionale del Veneto, Luciano Sandonà, scrisse a Klebanovic con una proposta di un'azienda vinicola veneta, Nicolis di Valpolicella, per collaborare con le aziende vinicola in Crimea. E la proposta includeva ad esempio l'investimento da parte di questa azienda veneta in Massandra. Massandra era la più grande azienda vinicola produttrice di vino in Crimea. E anche qui vale la pena ricordare, l'azienda Massandra era di proprietà, era pubblica, era di proprietà dello Stato ucraino e fu durante l'occupazione illegalmente sequestrata dalla federazione russa. Quindi anche in questo caso qui stiamo parlando di un'azienda italiana, un'azienda veneta che vorrebbe entrare, che era interessata ad investire in proprietà che sarebbe stata illegalmente ottenuta tramite invasione militare. Questo è il quadro di cui stiamo parlando. Un'altra azienda interessata era la Cantina di Soave, che per chiunque sia veneto, come me, sono nomi estremamente familiari, peraltro. Questo è il fatto che magari chi non è veneto non li riconosce, ma vi assicuro chiunque sia veneto sa di chi stiamo parlando. Ovviamente questo progetto non ha particolarmente successo perché nell'aprile 2017 dei vini provenienti dalla Crimea destinati a Verona vengono sequestrati dalle autorità italiane perché ovviamente sono in violazione delle sanzioni. Quindi pare che il progetto ovviamente non sia andato a buon fine, ma c'era sicuramente l'intenzione. Un altro progetto invece era quello della costruzione di un villaggio italiano, citato, in Crimea, con il coinvolgimento di un'azienda dell'acciaio italiana Scandiuzzi S.P.A. L'amministratore delegato di Scandiuzzi, Scandiuzzi, visitò la Crimea nel 2016 e nel 2017, scusate. Nel 2017 Scandiuzzi inviò una bozza di contratto al direttore della ditta russa Magnitogorsk a Chai, con la finalità, diciamo, l'idea era quella di esportare in Russia e in Iran attraverso una parte terza, girando quindi le sanzioni. Va detto comunque che Scandiuzzi nel corso del tempo ha preso le distanze da questo progetto e non è chiaro che sia mai... e sostenendo che non sia mai decollato, che non abbia mai avuto successo, aggiunge lui sfortunatamente perché pensava che avrebbe avuto un ritorno non indifferente per la sua azienda. A questo... quindi, diciamo, c'è una delegazione di politici ed esponenti dell'imprenditoria che si recano in Crimea. Questa delegazione include Valdegamberi, ovviamente, mitico, include il presidente del Consiglio regionale del Veneto, assessore della Giunta a Zaia, Roberto Ciambetti, già citato, include il segretario di Union Camera Veneto, Gian Angelo Bellati, il consigliere regionale del Veneto, Luciano Sandonà, già citato, Fulvio Scandiuzzi, amministratore delegato di Scandiuzzi, Marina Buffoni, assessore alla cooperazione internazionale del comune di Padova, della Giunta di Tonci, anche se lei era di Fratelli d'Italia, anche qui chiunque come me sia di Padova sa di chi stiamo parlando, Giuseppe Raffa, presidente della regione Calabria, scusate, della provincia di Reggio Calabria, errore mio, e si nominano anche alcuni due senatori di cui non viene fatto il nome e il famoso giornalista di Libero, di cui anche non viene fatto il nome. Val de Gamberi incontra a questo forum di Ianta la ditta di costruzione russa KSK, insieme a una delegazione di investitori italiani. Il progetto prevedeva appunto la ricostruzione in questo villaggio italiano di architetture nello stile di diverse città italiane, ecco, e pare che anzi Val de Gamberi avrebbe ottenuto in cambio di tutto questo un appartamento in questo villaggio, c'è proprio una foto di lui con il contratto che diciamo mostra di aver ottenuto appunto questo, di essere diciamo un proprietario. Ci sono poi nell'articolo, potete trovare altri casi, esempi di altre aziende, alcune nel settore dell'alimentazione e in tutti questi casi non è sempre chiaro che questi progetti si siano poi tradotti in realtà, quasi sempre erano più diciamo delle intenzioni e molto spesso poi in realtà le difficoltà delle sanzioni le hanno resi meno possibili di quanto sembrasse, il che ci dovrebbe far riflettere sul fatto se come sostengono alcuni le sanzioni davvero non servono a niente, come mai tutti, c'è questo tentativo da parte russa di farle rimuovere perché se non servono a niente possiamo lasciarle lì, se fanno male solo ai paesi europei allora perché non, perché non, anzi sarebbe nell'interesse russo che le sanzioni rimanessero invece lo sforzo russo è sempre quello di cercare di rimuoverle per qualche ragione che evidentemente loro capiscono e altri no. Mi sono dilungato anche fin troppo quindi lascio la parola ad Andrea sulle ripercussioni politiche nazionali di questo di questo episodio che ha molto a che fare con il Veneto. Sì, anche perché appunto questi legami economici che tentavano di essere creati da parte di Val de Gambri trovano il loro fulcro nel forum di Yalta che diventa un evento centrale non solo per la Russia ma anche per quella parte d'Italia che era vicina agli interessi del Cremlino. Nelle mail liccate si fa riferimento per esempio a degli inviti che arrivano dagli organizzatori del forum di Yalta a Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Lorenzo Fontana e persino Luigi Di Maio. Nessuno di costoro partecipò poi effettivamente al forum a parte Salvini che inviò un video messaggio che parleremo dopo. Però ecco diciamo che Val de Gambri nelle mail si vanta persino di essere riuscita a portare 20 politici di uomini di affari di alto livello tanto che nello scambio di mail con Mirza Khan, Val de Gambri suggerisce alle autorità russe di introdurre il gioco d'azzardo in Crimea su modello italiano, ossia basato su monopoli statali e si offre quasi come intermediario per mettere in contatto le autorità della Crimea con le autorità italiane, quindi cercando addirittura di portare la cooperazione a un livello quasi ministeriale. Ovviamente il fatto che al forum di Yalta venissero invitate personalità di altissimo livello aiuta Val de Gambri a cercare di vendersi come un importante intermediario. Il successo probabilmente più importante per quanto riguarda il forum di Yalta di Val de Gambri è il video messaggio che Salvini manderà all'evento del 2017. Questo video messaggio è ancora presente sul profilo Facebook di Salvini che appunto non potendo partecipare di persona all'evento a Yalta manda questo video messaggio. Il contenuto io lo trovo agghiacciante perché nel video Salvini che allora credo fosse ancora parlamentare europeo parla appunto dal Parlamento europeo sostiene cose che alla luce dei fatti come si sono svolti poi risulta quasi disturbante. Io vi invito ad andarlo a vedere perché Salvini parla della nessione russa della Crimea come legittima e sacrosanta, rivendica in prima persona di aver visitato la Crimea che lui la definisce liberata e auspica che l'Italia e l'Occidente riconoscano il controllo russo sulla regione. Poi Salvini fa un breve discorso sul fatto che la Crimea sia un esempio di democrazia da seguire e addirittura critica l'Europa o comunque l'Italia sostenendo che l'esempio di democrazia crimeniano dovrebbe essere adottato altrove, quindi suppongo in Italia o in Europa. Non credo adesso io che non ho seguito la vicenda però l'articolo linka questo video di Salvini e non credo che almeno a mia conoscenza qualcuno abbia chiesto conto a Salvini di queste parole dopo l'uscita dell'articolo che parla appunto di questi legami. Ed è particolarmente grave perché, ripeto, il video è ancora presente sul profilo Facebook di Matteo Salvini e non mi pare che lui abbia ratificato le sue parole. Ma ovviamente Salvini non è l'unica persona di alto livello che ha partecipato o comunque ha supportato il forum di Ialta. Nell'aprile 2017 partecipa in persona Luis Dunwalder che magari alcuni ascoltatori non lo conoscono ma è stato lo storico presidente della provincia autonoma di Bolzano dal 1989 al 2014, quindi è la personalità probabilmente politica più conosciuta in Alto Adige. A Ialta veniva invitato come relatore di un evento dal titolo Esperienza di autonomia politica e riprese dell'espansione economica nella provincia di Bolzano Alto Adige. Ossia gli organizzatori del forum di Ialta provavano a collegare l'esperienza dell'Alto Adige con quella della Crimea cercando appunto di creare uno share of good practices tra l'Alto Adige e la Crimea occupata. Ovviamente Durwalder non va da solo, partecipa all'evento anche Andrei Pruss che era il direttore del centro russo di Bordina di Bolzano che era stato aperto proprio dalla provincia autonoma di Bolzano nel 2009 e questo centro era stato finanziato tra l'altro con fondi pubblici come alcuni fondi del Comune di Merano, della Camera Commercio di Bolzano ma anche soprattutto da finanziatori russi come il Consolato Generale della Russia a Milano e da un gruppo di associazioni vicine per esempio al gruppo ferroviario della Russia, al Congresso Mondiale della Famiglia in Russia. Nessuno dei politici citati in questo scambio di mail ha mai risposto alle richieste di commento inviate via mail da parte degli autori dell'articolo. Se non voglio fare dietrologia ma è evidente che questo argomento è ancora abbastanza tabù o comunque costoro non vogliono parlarne, parlare di questi legami fra Alto Adige e Crimea. Ovviamente la cosa però non si ferma solo sull'Alto Adige, ci sono tantissime organizzazioni pro-Russia che hanno poi partecipato al forum del 2017. La più conosciuta probabilmente a livello nazionale è la cosiddetta associazione Lombardia-Russia, quella fondata da Gianluca Savoini che ha partecipato appunto al forum del 2017. Ora noi sappiamo che Savoini è stato anche coinvolto nella vicenda del Metropol, dell'hotel Metropol, in cui pare ci sia stato un caso di corruzione. La procura di Milano ha però archiviato, ha chiesto l'archiviazione dell'indagine a suo carico nell'ambito della vicenda del Metropol, però è un fatto che Savoini si trovasse a Mosca insieme a due uomini di affari, Gianluca Miranda e il suo assistente Francesco Vannucci, dove dovevano incontrare dei delegati lussi per discutere della vendita, di una vendita di prodotti petroliferi tra Eni e l'azienda petrolifica rossa, Rosnet, e una percentuale del pagamento, secondo quanto ricostruito dalle indagini che poi, ripeto, sono state archiviate, sarebbe dovuto andare alla Lega per finanziare la campagna elettorale. Non sono stati raccolti abbastanza elementi per poter identificare i pubblici ufficiali russi coinvolti, in questo caso di corruzione, quindi il reato non è stato perseguito anche per questo, ma parrebbe anche che l'affare fosse saltato anche perché alcune indiscrezioni giornalistiche avrebbero spaventato o comunque fatto fare un passo indietro coloro che erano coinvolti. Ora, non so quale sia la morale di questa cosa, certamente noi sappiamo che Salvini era a conoscenza di questi legami, non solo quelli di Savoini, ma anche probabilmente quelli di Valdegamberi, e per esempio c'è una fondazione statunitense, la Jamstown, che scriveva anche come Salvini, che comunque scriveva che Salvini aveva avuto anche rapporti con Dimitri Cosa, che è il vice primo ministro della Russia, citato in precedenza, e sicuramente questi legami dimostrano che c'è stata una continuità, perché se tra Unione Sovietica e Russia, nel modo di intromettersi negli affari europei, c'è sempre stata questa tendenza a intromettersi negli affari europei, e quello che magari si può notare è che se magari prima venivano fatte a livello di partiti durante la guerra fredda, tramite magari, non so, influenze del partito comunista, quello che traspare da questa vicenda è che almeno per quanto riguarda l'Italia, l'aspetto locale o regionale, gioca un importante ruolo nel promuovere le influenze e le visioni del mondo vicine alla Russia e al Carmelino. Esatto, e credo che sia importante precisare, come ha fatto anche Andrea, che ovviamente questo articolo parla di molti casi diversi, in alcuni casi ci sono, si tratta di mail che sono state ritrovate, in cui si parla di pagamenti, non si dice necessariamente il pagamento è avvenuto, quindi dobbiamo sempre tenere in mente questi fatti, in alcuni casi si parla di inviti, ad esempio, come all'Alta Economic Forum, Saldini, Meloni, Fontana, Di Maio sono stati invitati, ma nessuno di loro è andato fisicamente, quindi bisogna anche tenere presente questo fatto, anche se sicuramente Saldini con quel videomessaggio parla come se fosse stato in Crimea, quindi evidentemente deve esserci stato in un'altra occasione, non è chiaro nemmeno questo. Quindi, ancora una volta, si tratta di un articolo che aiuta semplicemente a ricostruire una tessera di un mosaico o di un puzzle estremamente più grande, estremamente più vasto, di cui abbiamo ancora una condizione non completa, nel senso stiamo mettendo, stiamo, intendo, come, 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 noi non siamo giornalisti ovviamente, dico, come pubblico stiamo, grazie a questi articoli, stiamo cominciando a mettere insieme pezzi che si connettono fra di loro, ma di cui non vediamo completamente la totalità. E questo secondo me è un fatto molto importante e rimane abbastanza sorprendente e anche un po' triste che questa indagine non abbia avuto un risalto maggiore in Italia, perché credo che chiaramente mostri il, diciamo, l'impatto e la diffusione di questa influenza nel mondo italiano e mostra anche come si tratta di un'operazione di lungo periodo che va avanti da anni e di cui, diciamo, fino a tempi recenti in pochi si sono interessati, in pochi hanno preso seriamente, va detto in tutto questo periodo, quotidiani, giornali e riviste ucraine dicevano tutte queste cose, no? Nel senso, se voi, se uno leggeva la stampa ucraina nel 2015, nel 2016, nel 2017, non solo dal 2022 in poi, avrebbe trovato tutte queste cose. È un peccato che purtroppo in molti paesi europei tutto questo non fosse ritenuto particolarmente rilevante, particolarmente importante e non gli fosse stato dato abbastanza peso, ecco. Sì, penso che questa sia la conclusione di questa chiacchierata. Anche perché ci siamo promessi di stare dentro l'ora e questa volta vogliamo assolutamente, ma anche l'altra volta ci siamo riusciti, quindi ringraziamo chi ci ascolta, ovviamente invitiamo tutti quanti a condividere, soprattutto in questo caso, perché si tratta di vicende che hanno molto a fare con la realtà italiana, quindi di condividere, di mettere like e di e di sostenere Liberi Oltre. Grazie a tutti quanti. Come detto, in descrizione al video troverete gli articoli, troverete sia in inglese che in italiano e poi tutta una serie di fonti per approfondire il tema per chiunque fosse particolarmente interessato. Grazie a tutti e alla prossima. Alla prossima, grazie.